Amici di Diretta Sport, buona serata e benvenuti in diretta dal Palaconi di Cagliari per assistere alla semifinale della Coppa Italia di Serie A2 di Futsal, femminile il derby tra la Mediterranea Cagliari e la Jasnagora. Per Affanti, pallone di ritorno dentro la di rigore, ma esce Mendes 3 contro 1, Mendes mentre per Saba, Saba con la destra, palla ribattuta da Radu, parte Mendes con la destra, calcia in porta e la sblocca Filippa Mendes con calce di punizione, posizione centrale, 11 minuti 50 secondi alla termine della prima frazione di gioco, la sblocca la portoghese Filippa Mendes. Sono la numero 5 di Maria e la numero 6 Fanti, mentre adesso Filippa Mendes, pallone dentro per il raddoppio di Mari Casaba, arriva e mostra un foglio alla tribuna, c'è il raddoppio di Saba a porta vuota, il merito è neanche a dirlo di Filippa Mendes. Forse il pivot adesso lo fa Fanti e Priviterà fa il laterale, il doppio dribbio in pallone che arriva per Fanti dentro la di rigore, c'è il gol subito di Fanti per il 2 a 1, si accende subito la sfida in questa ripresa. Filippa Mendes contro Di Maria, 1 contro 1, ancora Mendes si accentra alla confusione col destro, meglio lo scarico per Di Maria, ancora Di Maria, pallone dentro, Saranitti, prova col sinistro, la grande conclusione. All'atto della porta difesa da Mugironi che adesso va al rilancio con le mani dove c'è Saranitti che va a cercare il pallone, 2 contro 1 per Filippa Mendes e Vargi per Mendes. La chiude Filippa Mendes con il gol del 3 a 1 a 14 secondi dal termine. Calcio d'angolo, pallone messo fuori e termina in rimessa laterale, Saranitti applaude il pubblico. Bella partita al Palaconi questa sera.